L'ho citato, colleghi deputati, collega Mollicone, deputato Mollicone, la richiamo all'ordine. Tornate al vostro posto e depositate i cartelli, tornate nelle vostre postazioni. Tornate al vostro posto e depositate i cartelli, tornate nelle vostre postazioni, la salita è sospesa. Ma dimmi che non potremmo non sospenderla prima a questo punto. E' anche più bello sospenderla prima. E' anche più bello sospenderla prima.